e adesso segnatevi queste date 9 10 11 12 e 13 maggio dove alla lingotto fiere di torino per la 36esima edizione della fiera internazionale del libro se cercate una casa editrice nata per caso e un po per gioco che offre una proposta editoriale particolare e dettagliata non convenzionale idee diverse e un team fuori dagli schemi pathos edizioni andare a trovarli padiglione 2 stand g 65 f 66 e dite loro che siete amici di tg events television e riceverete un simpatico maggio e poi da pathos edizione tra i tanti i blasonati scrittori c'è anche una giovane promessa che promette molto bene è dedicato a tutti voi che in qualche maniera mi sostenete e vi ritrovate a sposare la filosofia del cretino si nasce preso atto che al cretino d'occhi i fatti accadono in maniera naturale è caso di dire che è nato è nato ufficialmente il mio libro come nasce un cretino da grande e da piccolo quindi coaspettate in tutte le librerie d'italia entrate salutatemi il libraio o la libraia dite che sono simpatici un po cretini perché se sei cretino stai bene e se stai bene la vita la fronte ancora meglio perché la vita va affrontata a colori come nasce un cretino luca e galtieri